Ciao ragazzi, oggi saltiamo in sella su uno dei missili più potenti della categoria stiamo parlando della Suzuki GSX-R1000 in allestimento R il bolide che vedete in questo video, 202 cavalli di propulsore immatricolata come gamma 2017-2018, conservata da un unico proprietario e con sui 3.600 km ovviamente la moto è in condizioni pari al nuovo gommata zero, quindi nuova di trinca insomma un concentrato di elettronica e tecnologia ABS, traction control, tutto chiaramente settabile e regolabile da ricordare il cambio elettronico up and down a correre insomma veramente una delle super sportive più potenti della categoria per chi non la conoscesse effettivamente questa è una moto eccezionale da scoprire in tutte le sue peculiarità se volete venire a scoprire questa favolosa offerta ci trovate a Caronno Pertusella e in via Bainsizza 800 o in alternativa sul nostro sito internet Giudici Moto Giudici Moto, realizza il tuo sogno scopri la tua prossima moto nella vasta esposizione di usato selezionato e garantito come nuovo fatti consigliare e acquista in totale sicurezza vuoi vendere la tua moto usata? richiedi una valutazione ti aspettiamo a Caronno Pertusella in via Bainsizza 800 e su giudicimoto.it